salve la teoresi severiniana è l'unica che può giustificare l'esperienza musicale ovvero l'esperienza della continuità dei suoni delle melodie del ritmo musicale che si presenta appunto nell'esperienza musicale perché solo essa può farlo perché solo in una struttura eterna di momenti di configurazioni è possibile esperire la continuità e la successione dal prima al dopo cosa appare innanzitutto non solo nell'esperienza musicale ma in generale dal punto di vista fenomenologico appare una sequenza di configurazioni diverse certo che non abbia appaiono a scatti come se fosse una sequenza discontinua perché perché tale sequenza include anche l'incominciante apparire di ogni configurazione che è incluso nell'apparire di quest'ultima e oltre ad apparire ciò appare anche il passaggio da una configurazione all'altra anche tale passaggio è un essente che è congiunto alle configurazioni quindi la sequenza appare come mobile come apparentemente diveniente perché è composta da queste configurazioni e da questi essenti eterni abbiamo detto che l'apparire infinito è il luogo dove tutta la realtà tutti i momenti sono ed appaiono sempre nella coscienza infinita questa coscienza infinita è come se fosse una pellicola di fotogrammi noi siamo coscienza eterne ma finite in cui la pellicola di fotogrammi non appare tutta insieme ma appare una parte alla volta e questo apparire una parte alla volta determina la persuasione nichilista ora la musica l'esperienza musicale in ottica severiniana in prospettiva severiniana è l'apparire di queste configurazioni eterne per cui la musica anche se a noi sembra essere un contenuto diveniente ovvero a noi sembra che la porzione musicale ascoltata in un certo tempo non ci sia più nel presente e che nel presente non ci sia già la porzione di musica che ancora non abbiamo ascoltato di una canzone eccetera di una melodia e questo però questo fatto non comporta che le parti precedenti e quelle successive della canzone della musica non siano eterne e non appaiano eternamente ora come la coscienza infinita sperimenti una sequenza musicale tutta insieme pur se determinata noi non lo possiamo concepire perché a noi appare per adesso solo una parte alla volta ovvero appare una certa porzione non appare più la precedente e non appare ancora la successiva però al di là di questo al di là di questo quel che vorrei rimarcare è che nella nostra esperienza non c'è qualcosa in più non è che questa esperienza apparentemente diveniente sia un'aggiunta che manchi all'apparire infinito perché l'apparire infinito come dicevo prima include anche l'incominciante apparire di ogni configurazione cioè di ogni momento tra virgolette della nostra esperienza e include anche il passaggio dall'uno all'altro quindi nell'apparire infinito non appare una staticità ma appare un'eterna mobilità perché appare sempre anche il passaggio da una configurazione all'altra lo ripeto come possa poi nel concreto essere rappresentata questa situazione non lo possiamo concepire adesso in questa situazione ma nell'apparire infinito appare questa mobilità questa continuità ora ed è già la terza volta che dico ora chissà se lo dirò anche altre volte nella esperienza musicale non appare in verità solo la configurazione del presente ma insieme appare anche la traccia di quella passata perché se così non fosse non apparirebbe neanche la sequenza musicale se apparissero solo degli istanti e non apparisse una continuità tra loro noi non potremmo sperimentare la successione da un istante all'altro e quindi non sperimenteremo la continuità che si ha nell'esperienza musicale tuttavia questa esperienza è composta da parti eterne è una struttura eterna immutabile secondo l'ontologia severiniana e questa struttura eterna come cerco di spiegare non esclude la mobilità percepita tra virgolette la la fluidità il fluire dei vari momenti delle varie configurazioni ma è l'unica struttura che la può giustificare perché perché mentre nella concezione nichilista si ritiene che il passato anche immediato non esista più che esista solo il presente attuale e anche il futuro è ritenuto non esistente nell'ontologia severiniana passato presente futuro coesistono anche se ognuno ha il suo tempo in quanto l'eternità qui affermata è a temporalità non si dice che tutto è eterno nel senso di sempiterno non si dice che ogni nota musicale ogni melodia ogni parte di una canzone sia eterna e quindi debba esserci ed apparire in tutte le altre porzioni temporali ma che ogni porzione temporale ha il suo incominciante apparire e assieme ad esso è eterna nella sua disposizione temporale cerco di evocare l'immagine che già ho proposto altre volte ovvero immaginiamo due semi rette quella orizzontale ma può valere anche al contrario in quella orizzontale abbiamo tutti gli eventi tutti gli istanti della nostra esperienza noi esperiamo questi eventi uno alla volta quindi percorrendo la linea orizzontale ma c'è anche la linea verticale ebbene l'apparire infinito vede tutti i momenti della linea orizzontale della prospettiva verticale quindi li vede tutti li vede tutti insieme attraverso una prospettiva verticale perché vede simultaneamente la semi retta verticale quella orizzontale mentre noi siamo solo all'interno della prospettiva orizzontale in questa in questa in questo esempio e quindi appaiono come se fosse mutevole e mobile il contenuto che speriamo noi lo ripeto non è che li appaia un insieme di cose statiche di immagini ferme ma appare come noi stiamo esperando adesso ma appare eternamente sembra incredibile sembra qualcosa di assurdo però così dovrebbe essere questo lo ripeto perché l'apparire infinito non ha niente di meno ma anzi ha di più di ciò che appare nel finito la mobilità che appare nel finito non è un'aggiunta che dia dinamicità a qualcosa di statico ma è qualcosa in realtà in meno che è composto comunque da parti che già esistono nell'apparire infinito in ogni configurazione appare anche una porzione sempre diversa ma che comunque fa capo a un'unica struttura del proprio io empirico ogni configurazione che appare nella propria coscienza include una porzione del proprio io empirico quindi non è che il proprio io empirico cambi a seconda dei contenuti che appaiono il proprio io empirico reale potremmo dire è una parte del cerchio del destino ed è una parte che è composta da tutti gli io empirici che sono presenti in ogni istante temporale in ogni configurazione quindi abbiamo una molteplicità dio per fare un altro esempio allora la legna che arde e si ritiene diventi cenere come viene letta tale situazione nella prospettiva severiniana come l'apparire di configurazioni eterne che simulano la legna simulano la legna che arde simulano la cenere e simulano tutti i rapporti e nessi fisici che ci dovrebbero essere tra quelle componenti quelle interazioni e quelle strutture quindi l'idea che la combustione di certi materiali produca certi effetti nella prospettiva severiniana non ci sono oggetti fisici non c'è una realtà fisica diveniente ci sono configurazioni eterne che la simulano e che la rappresentano come se fosse una realtà effettiva quindi lo ripeto non cambia nulla dal punto di vista delle regolarità empiriche ovvero la scienza il mondo funzionano perfettamente come se ci trovassimo davvero in un mondo fisico queste configurazioni non le abbiamo create noi non le possiamo modificare e non le ha create neanche la coscienza infinita sono così da sempre la realtà è da sempre così questo piano che noi stiamo sperimentando è da sempre la terra isolata che è il luogo del contrasto tra la verità e l'errore e quindi da sempre simula la persuasione nichilista ho anche spiegato in alcuni video che la migliore possibile rappresentazione nichilista del mondo è proprio quella che stiamo vivendo cioè l'idea di stare in un mondo fisico con un corpo fisico e con tutta l'enorme complessità di rapporti e relazioni che riguarda una struttura così articolata ho già spiegato che il mondo fisico comunque esisterebbe anche secondo tale ontologia ma non fisicamente bensì idealmente e che ciò non toglie nulla l'oggettività del mondo al principio di realtà e alle regolarità empiriche che sono indagate dalla scienza quel che cambia è il senso e l'interpretazione che abbiamo del mondo una volta ricordato ciò la legna perché ho fatto l'esempio ripreso l'esempio celebre di severino della legna perché secondo essa la legna non è un oggetto diveniente che cambia di componenti di determinazioni e diventa altro o sparisce una parte di essa e subentra qualcos'altro che è la cenere ma la legna totale la legna concreta è l'insieme di tutti i suoi eterni momenti che sono tutti immutabili e nessuno diviene l'altro allora la legna è il momento in cui è tagliata dall'albero il momento in cui sta nel camino il momento in cui incomincia ad ardere un pochino i momenti in cui arde di più i momenti in cui si sta consumando i momenti in cui è cenere potremmo dire se vogliamo mantenere una continuità tra legna e cenere quindi l'essente totale della legna è l'insieme di quegli eterni momenti nessuno dei quali inizia o smette di essere e di esistere o e o diventa altro da sé si trasforma in altro da sé tutti sono ed appaiono sempre bisogna sempre tenere presente che vi è l'apparire infinito secondo tale struttura quindi non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che nella nostra esperienza non appare tutto quello che esiste ma appare solo una parte alla volta e quando appare la legna che arde non appare più la legna che stava fuori dal camino e non appare ancora la cenere e poi quando appare la cenere non appare più neanche la legna che arde non bisogna lasciarsi persuadere da dal fatto che nell'apparire finito non appaia tutto insieme concretamente perché appunto bisogna tenere presente la struttura concreta affermata da severino riguardo alla musicalità all'esperienza della musica sebbene in ogni configurazione non appaia concretamente quella passata quelle passate e quelle future appaiono le tracce nella configurazione presente appare la traccia di quella passata e quella presente appare assieme al passaggio dalla dalla sua antecedente ad essa se non apparisse il passaggio non apparirebbe la successione apparirebbe una serie discontinua di configurazioni e noi non avremmo esperienza della fluidità e della successione ogni momento ci sembrerebbe il primo e ci sembrerebbe sconnesso dal precedente e l'apparire che non è solo sensibile empirico mai innanzitutto coscienziale anche l'apparire sensibile è innanzitutto coscienziale e l'apparire il manifestarsi di qualunque contenuto il proprio stesso corpo il cervello il mondo sono contenuti iposintattici che appaiono nel proprio cerchio del destino l'apparire di questi contenuti include il passaggio da un da un contenuto iposintattico all'altro quindi da quello passato a quello presente e questo passaggio è possibile solo nella teoresi severiniana perché l'unica che afferma che il passato esiste ancora ma se il passato come configurazione come stato di cose di relazioni e di determinazioni ben specifiche non esistesse più non sarebbe possibile l'apparire del passaggio nel momento presente dal passato al presente se il passato nel momento presente non esistesse in alcun modo neanche come traccia il passaggio sarebbe il passaggio che includerebbe il nulla verso il presente la continuità non sarebbe esperibile e invece esperibile è un fatto ed è possibile solo grazie a una struttura eterna di configurazioni paradossalmente per quel che si potrebbe invece credere a primo impatto no e siccome la musica richiede proprio questa ritenzione percettiva tra virgolette percettiva dell'appena ascoltato per avere l'esperienza della continuità con i contenuti ascoltati nel presente l'esperienza musicale è proprio la prima potremmo dire esperienza ma in realtà è allo stesso livello delle altre è la prima esperienza che richiede proprio l'eternità di tutti i momenti e che nessuno si annulli o diventi altro da sé perché se il momento precedente si annullasse non potrebbe apparire il passaggio dal nulla al momento presente e se la configurazione di prima diventasse altro da sé il passaggio di nuovo non potrebbe apparire per apparire il passaggio da una configurazione all'altra entrambe le configurazioni devono essere determinate e distinte tra loro ed è qui che entra in gioco in maniera prorompente l'implicazione ontologica fenomenologica dell'opposizione del positivo e del negativo che non può essere un semplice principio logico per confutare radicalmente l'obiezione secondo cui l'opposizione al massimo sarebbe un principio valido nell'ambito logico ma non si avrebbe certezza del suo valore ontologico beh basta far notare che fenomenologicamente e dico fenomenologicamente perché l'ambito fenomenologico non può non essere l'ambito ontologico perché altrimenti diremmo che l'ambito fenomenologico è ambito di nulla e negheremmo che l'esperienza fenomenologica testimonia la presenza di contenuti che non sono nulla ma che hanno e sono delle cose quali qualunque cosa esse siano non si sta dicendo che le cose siano alcune cose o altre ma si fa un discorso trascendentale cioè che vale in quanto tale qualunque cosa siano i contenuti fenomenologici sono qualcosa per il semplice fatto che appaiono il nulla non appare il nulla non esiste per cui tutto ciò che appare è certamente qualcosa e non un nulla è molto semplice dove il nulla significa il nulla assoluto che non è e non esiste in alcun modo ma tuttavia lo ripeto il significato del nulla l'ho detto in molti video non è un nulla ma è un positivo significare bene allora nell'esperienza fenomenologica noi abbiamo la prova che la realtà è determinata secondo l'opposizione perché se così non fosse non potrebbe apparire il passaggio dal prima al dopo se lo ontologicamente il prima non fosse distinto dal dopo non potrebbe apparire la successione non potrebbe apparire l'ordine con cui appare il mondo e l'esperienza musicale se una qualunque porzione della realtà a livello temporale e anche di una qualunque canzone fosse identica alle altre ontologicamente quindi non fosse valida l'opposizione a livello ontologico ma allora non si spiegherebbe e non potrebbe darsi proprio l'apparire di una sequenza determinata di contenuti che invece è quella che noi speriamo continuamente e allora fenomenologicamente abbiamo proprio la prova che ogni determinazione ogni configurazione non è le altre e allora vuol dire che è iscritta nell'opposizione se non è le altre vuol dire che è se stessa se è se stessa vuol dire che è un positivo che non è un nulla e che non può diventarlo e che è per sempre quella determinazione quella configurazione lì se non lo ripeto se una qualunque configurazione di cui abbiamo esperienza nel fluire dell'apparire processuale non fosse originariamente e determinatamente se stessa in modo eterno il passaggio da lei alla successiva o dalla sua antecedente ad essa non potrebbe darsi perché richiede la determinatezza dei contenuti di cui si darebbe passaggio le configurazioni che sarebbero soggette al passaggio dall'una all'altra devono essere entrambe presenti nel passaggio altrimenti non apparirebbe il passaggio dall'una all'altra e per essere presenti nel passaggio devono essere presenti in modo determinato l'unico modo determinato possibile è quello che ha presentato Severino cioè che la configurazione del momento 1 per semplificare è sempre se stessa anche quando appare il momento 2 è totalmente identicamente se stessa anche quando appare il momento 2 non diventa il momento 2 o il nulla rimane quella e appare il passaggio dall'una all'altra ora è chiaro che in realtà io cerco di semplificare quando parlo di tempo è chiaro che in verità il tempo non c'è se con tempo si intende un fluire diveniente di cose ma il fluire in sé per sé è stato detto più volte non è negato per come lo esperiamo ma è negata l'interpretazione che se ne ha si sta cercando di spiegare anche in questo video che la mobilità, il fluire è composto da strutture statiche eterne che congiunte in un certo modo e apparendo continuamente in un certo modo determinano la fluidità l'esperienza del fluire e quindi non è la realtà che è come se fosse in un panterei in un fiume che scorre ma è il panterei che è in una struttura parmenidea potremmo dire eterna di componenti di configurazioni e di relazioni per questo motivo e magari ci ritornerò anche la memoria e i ricordi vanno come ha spiegato Severino reinterpretati in quanto il ricordo non sarebbe allora a questo punto il ricordare un evento passato che non c'è più ma sarebbe il ricordare un eterno perché solo ciò che esiste sempre può essere rievocato e il ricordo per essere effettivo ricordo e non solo rappresentazione di un ricordo che creerebbe un regresso all'infinito per essere effettivamente ricordo nella sua forma concreta comporta anche la presenza del contenuto ricordato cioè dell'evento in carne e ossa ricordato ci farò un video perché detto così può sembrare incompleto ovviamente certo che è incompleto quello che sto dicendo però questo per dire che la teoresi severiana è qualcosa di portentoso che stimola anche a rivedere la maggior parte delle nostre idee delle nostre rappresentazioni del mondo della mente della realtà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti